Quest'oggi giocheremo una mappa di Roblox che ci dirà quanto siamo intelligenti Ho paura di vedere il risultato E ragazzi come va? Io sono Feriniki E io sono Stef e che si giochiamo a Roblox E siamo tornati nella nostra tre mappe in uno Oggi inizieremo da una mappa che ci dirà quanto siamo intelligenti E io non voglio sapere la risposta Preferisco non saperla Allora dobbiamo toccare la mano sinistra del noobs La mano sinistra è questa dato che è specchiato giusto? No dovrebbe essere questa Secondo me è questa Hai appena sbagliato brutalmente Tu ti confondi sempre con sinistra e destra mi avresti dovuto seguire Guarda come muori adesso Preparatevi Lo sai che hai problemi con sinistra e destra Perché sono la mancina corretta quindi non riesco bene a distinguere sinistra e destra Non è colpa mia ok Allora la foto della scimmia Cerca la foto della scimmia No non è una scimmia cita Cita non dovrebbe essere coca di No cara E allora è questo Sì anche secondo me Aia E qual era scusa cita non è una scimmia Mi sa che era il ghiopardo tipo Allora mi sto confondendo ok Stiamo iniziando malissimo te lo dico eh Uh guarda guarda questa è una di quelle domande abbastanza difficili Dice praticamente eh che il sole fa il 99.8% della massa del nostro sistema solare Eh secondo me Non lo so Può essere vera Perché la grandezza del sole è gigantesca Anche se Giove è grandino Quindi il 99 Mi sa che siamo No ok era giusta Era giusta Comunque volevo spiegare una cosa Che è molto carina Praticamente ogni volta che azzecchiamo una domanda Facciamo un punto di quel sentente elettivo Se muori li perdi tutti Capito Quindi devi cercare di azzecarle tutte di fila Non puoi mai sbagliare come abbiamo appena fatto prima Dobbiamo stare vicino alla polizia Eccolo eccolo Dove 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 Qua Corri Corri Buongiorno poliziotto Tutto bene? Tutto bene Dobbiamo stare vicino a lei per dimostrare che siamo intelligenti Sì per dimostrare che sappiamo riconoscere i poliziotti Dobbiamo toccare la foto La foto Ok Una mela Semplicissimo Eccola Mela 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 Eccola qui Opla opla Ci sta chiedendo chi ha fatto un piretto Tu 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 Anzi è stata questa Alpacen Decisamente Vero? Guarda gli occhiali da sole Lo sappiamo tutti che sei stata tu Per nascondere l'evidenza Dai Basta ammetterlo L'importante è quello Non c'è niente di male Non guardarti intorno Dai Cioè le facciamo tutti Vedi sta ridacchiando Ridacchia ridacchia Perché sta di essere colpevole Allora Vai Gli uomini Vivono di più delle donne È falso Falso Le donne vivono di più degli uomini Esatto esatto Avevo letto anch'io sta cosa Avevo letto sta cosa Poi non so se è nascimento Statisticamente si dice che è così Ok più uno Vai Stai attenta questa volta Allora la gamba sinistra Vieni qua Quindi è specchiato È questo È brava Ce l'hai fatta No non mi spostare Non ci provare Tu biondina Smettila Tu biondina Non fa sentirti Cercando di capito Di farmi sbagliare direzione Non si fa Hai le braccia larghe Come se volessi risare Guarda Eh lo so Eh lo so Sono prontissima Sono prontissima Questa posa mi si addice Dobbiamo stare in Africa Eccola 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 Questa C'ero già sopra Per favore Ragazzi non ci stiamo tutti Ok Qualcuno se ne vada in Italia Vai 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 Spingo Ma la pena so dove è la Sardegna Guarda Più uno Dai a quanto siamo Sei di quaziente intellettivo Dove è il cowboy Eccolo 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 Eh ma è proprio un bel cowboy Lei Esci Esci Le vorrei rubare i vestiti Sono fantastici Io vorrei il suo cappello Spostatevi Voglio starci più vicino Io Questo qua con la corona mi sta antipattico Vai via Perché a me non mi piace Vai via Ok più uno Vai siamo tornati a due di quaziente intellettivo Wow Anzi no tre Tre scusami eh Eh qua scusa Bisogna dire le cose come stanno Quanto hanno i criceti? Perché voglio battere i criceti Allora dobbiamo stare nel Vieni 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 Nell'erba Nell'erba Corri Ce l'ho fatta Meno male Sì Ce l'ho fatta Più uno più uno Era lontanissima Quindi avevo paura di non farla Allora aspetta che lo cerco Tanto ci sono fisso delle pause in questa mappa Adesso google Il quaziente intellettivo di un criceto Secondo me è già più alto di quello che abbiamo in questo momento nel gioco Vediamo Però non vorrei dire Nell'Europa vieni vieni qua vieni qui Forza forza Non mi spingere nell'Inghilterra Però come facciamo se ci spingiamo La persona è terribile Diciamo se ci spingiamo rischiamo di non toccarla Era davvero minuscola Allora ti volevo dire Che ho cercato per i criceti Un sacco di gente lo chiede su internet Quindi non siamo persone strane Però nessuno ha la risposta del quaziente intellettivo di un criceto Quindi dobbiamo inventarcelo Sarà per sempre un dubbio Secondo me Allora contando che le persone Guarda che sono abbastanza intelligenti Sì però le persone poco intelligenti Arrivano anche a 50 Ok 50 40 Quindi secondo me un criceto c'ha 10 Secondo me almeno 30 ce li ha Ma che 30 Ma dai Sono molto intelligenti Riconoscono il padrone E li puoi anche mezzo addestrare Quindi sono molto intelligenti Guarda sei solo tu lo stupido qui Ma guarda Dobbiamo premere il bottone arancione dieci volte Uno Due Tre Quattro Mi stanno spingendo Quattro Cinque Sei Sei Sette Sette No Non è arancione No Oh cavolo Abbiamo perso tutti Sì Abbiamo perso tutti Ci ha fregato Che fail Io cambio mappa Questo è un fail incredibile Me ne vado Me ne vado Ho scelto una mappa davvero davvero strana Allora praticamente vieni di qui Ok C'è una stanza lunghissima E c'è un muro con una faccina Ok Sì lo vedo Lo vedo Appena diventa tutto buio Questo muro viene verso di noi E ci schiaccia Lo vedi che sta arrivando Spostati Vieni via Vieni via Vieni via Vedi lui adesso schiaccia E ammazza tutti quelli che sono in mezzo Ok Ok Quindi l'obiettivo è arrivare alla fine della mappa Senza farti schiacciare Cioè ma come fai se va sempre dritto? Perché devi Vieni Seguimi Andiamo 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 Sì l'ho rubato l'overboard Eh dicevo come fai ad averlo e poi sei velocissimo Cioè mi stai lasciando super dietro Allora ci fermiamo qua Vieni 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 Non ce la farò mai Non arriverò mai lì Sì qua ci arrivi Vieni cara Non arriverò mai lì E quindi proprio perché non puoi arrivare alla fine Dato che appunto poi ti schiaccio Devi fisso entrare in questi stanzini Capito? Ok Molto particolare Vero? Molto strana Cerchiamo di farcela Corri Ce l'ho fatta Ci sei? Basta che sto qui dentro Sì 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 Buio 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 Ci sono Ok almeno ho capito che è possibile arrivarci anche a piedi E non devo rubare un overboard pure io Esatto Ok di nuovo Appena torno indietro Corriamo Appena lo vedi passare corriamo Pronta eh Andiamo Sì 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 Corri 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 Ma sono velocissimo io con questo È uno ziotto invece solettissimo Oppure un palloncino che non so cosa serve Non siamo esperti Eccolo È partito Di essere schiacciati dei muri Dico solo che come faccina adesso sta sorridendo e ha il prezzemolo incastrato È fantastica Cioè la voglio come faccia per il mio personaggio perché è fantastica È geniale Allora dai su un muro torno indietro così Steph arriva alla fine E vince subito Ok Oh yes Deve ripassare No puoi andare Ok Corri Sono sceso dall'overboard comunque così siamo alla stessa velocità dai Ma c'è uno che sta volando con un'astronave Ma lo vedo ma non è giusto Ma dai cioè Daccelo anche a noi Io ci provo ad andare in quella dove stai andando tu Ok Sono lontanissima secondo me morirò schiacciata Ha una faccia da disgraziato e quindi non so se fidarmi Te lo dico non ce la farò mai Non ce la farò mai Dai Ferinichi ti vedo Mi vedi Sì non ti manca molto Corri Non ce la farò mai Per ora non è ancora buio quindi non sta partendo Dai Guarda un palloncino che ti aspetta Ce la faccio Dai Ce la faccio Ok Andata 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 Se sei entrata Ho visto il muro passare dietro Ma sei matto Non farle più ste cose Non farle più Che spavento Potevo giuttare tutto al vento Però ce l'abbiamo fatta Lo sai è finita Sì 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 bravi Andiamo Andiamo Corri 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 che abbiamo finito Aspetta però non ha faccina Mi sta preoccupando Ok Ok Mi ha fatto spaventare per un momento È una faccina carina Quindi dovrebbe stare tranquillo Vedi qua c'è il fosso Però ce n'è anche uno nel blu E quindi quale è meglio Ah no Ok Dovesti stare qua nel caso per sopravvivere Quindi noi dobbiamo andare qui Vieni 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 che ce l'abbiamo fatta Vieni che ce l'abbiamo fatta Non partire adesso Ti prego no Non provare a partire adesso Giù Vinto Sì Le stelline con una faccia qua che ride Ok Guarda quanta roba gratis Ah ecco dove le hanno prese le cose Voglio il razzo Voglio il razzo tutta la vita Voglio il razzo tutta la vita No Guardami Sono una fatina Dietro di te Aspetta io sto avendo un problema Mamma mia Mi sono un attimino incastrata con il razzo È difficilissimo da usare Vedi che si stanno incastrando Non sai guidare Ma si stanno incastrando tutti Non sono solo io Aspetta che voglio la fatina Mi vedi Dove l'hai presa? La pozione Eh sì la pozione Allora voglio l'orso polare Ok E poi la renna Anzi no La tavola da surf Ok io torno lì E voglio riprovarci Sono curiosissimo di provare il gioco così Con cosa provi tu? La renna Io l'orso polare Sono già partita Ma no aspettami Eh perché appena la metti parte sta renna eh Ma guardami Oui Che succede? Dietro di te Ma sei lentissimo Esatto Questa renna poi non vola molto bene No sta arrivando No Fammi scendere Fammi scendere Fammi scendere Oddio sto raggio Oddio Allora non è una buona idea usare gli oggetti Perché si flippano E poi non puoi scendere Non è una buona idea Il mio arso polare è morto E come ultima mappa di Roblox E di questa tre mappe in uno Facciamo Pepper Please Su Roblox Io non so Io non ho capito come funziona Niente io Però andiamo Segui Steph Segui Steph Segui Steph e tutto andrà per il meglio Allora Tipo questo cos'è? Non lo so Però segui Steph Non lo so Vieni 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 Dobbiamo fare la fila credo Praticamente invece che essere quello che giudica le persone Credo che siamo una persona che viene giudicata Capito? Ok abbiamo un passaporto random giusto Esatto da presentare Perché lo vedo E quindi dobbiamo vedere un po' Ma io volevo essere quello che giudica Non è giusto O forse capiti a casaccio Sì perché se vedi a destra ci sono Ah sì infatti vedo quelli sopra Quelli che scelgono Quelli che sparano E quelli che sparano Che semplicemente cercano di entrare Questo mi sa di cattivo eh Cioè sta sparando tutti a casaccio Noi facciamo un bel sorrisone E va tutto per il meglio Guarda la mia faccia È la più bella che tu abbia mai visto Guarda il mio sorriso Cioè come puoi non farmi entrare in questo posto fantastico Eh Porterei tantissima allegria Certo certo Ciao 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 Ma è un consolino? Non lo so Gli scrivo Ciao Lo supero nella fila però aspetta Supero anche questo Mi dispiace Scusate siete mezzo fermi Vabbè Qua non abbiamo tempo da perdere noi Allora vorremmo entrare Buongiorno Sono molto lenti Cioè dovreste fare un po' più veloci Eh dice in linea Aspetta aspetta che se non si arrabbia Ok Comunque dei italiani subito A non rispettare le file Erano tutti bellini in fila Arriviamo noi Guarda il caos Perché noi siamo abituati così Capito? Sta urlando in linea No guarda sta picchiando Aspetta aspetta Stai ferma eh Io sto ferma eh Io sono in linea Non l'ho superato nessuno Oh 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 Calmi con quei fucili Calmi 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 È un grilletto facile Stai guardi eh Sì perché vogliono Non mi piacciono molto Aspetta ma quella al fucile Non è della federazione Che succede? Aspetta Dove di il fucile lì? Ok no peccato è scomparso Perché c'è il fucile da prendere Allora io sono eh In fila Buongiorno Buongiorno Volete il mio passaporto? Buongiorno Scusi Ascolta ste guardie fanno schifo Quindi prendi ed entra senza permesso E adesso scappa 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 No non riesco a salire Perché mi saltano nella testa E mi sto buggando Sto scappando Ci stanno inseguendo Aiuto Sto scappando Corri 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 Posso entrare qua? Scappo No non posso entrare Donazione Corro Vieni qui fuori Dove sei? Io sono in mezzo ai palazzi Eh anch'io oppure io Sto cercando un'arma Non possiamo andarci Ma e quindi dopo che ci accettano Non c'è nulla da fare? Eh io non ho capito neanche Come ci dovrebbero accettare Ah comunque abbiamo Qui alla destra Gli effetti strani Quindi è per quello Che ti sei attivato Sto mappa fa letteralmente schifo Non funziona nulla Non si può fare nulla Non riusciamo a capire niente Cioè non ha senso Non è che c'è da capire Non c'è proprio nulla Ci sono dei militari pazzi Che ti sparano a priori Tu cerchi di entrare Ma non ti fanno mai entrare Anche se entri non c'è nulla E basta E non c'è altro E vabbè Praticamente fai soldi Stanno dentro la mappa Appena arrivi tipo a 170 Ti compri una cappa E vai e ammazzi tutti Se ci riesci bene Altrimenti no Però non cambia nulla Perché poi ti riammazzano Quindi fa schifo Ok? Fa schifo Vabbè Una mappa su tre ci sta Che sia brutta secondo me Vabbè Ci stavo a provarla Sembrava così carina Invece boh Anch'io non l'ho apprezzata Molto preferisco il gioco originale Stavolta sì Decisamente Decisamente Comunque ci fermiamo così Per questo video Speriamo che le tre mappe Vi siano piaciute A parte questa Quindi le altre due Secondo me Erano molto divertenti E molto carine Speriamo che Vorrete continuare a vedere Le video in tre mappe in uno Perché è super divertente Provarne un sacco Una dopo l'altra Speriamo che il video Sarà un po' più lunghetto Dato che ce l'avete chiesto In questo modo E direi che ci possiamo fermare Per questo Lasciateci un bel like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao